Prenderà il via nel mese di ottobre l'annuale campagna di educazione ambientale del WWF, due programmi di educazione ambientale rivolte alle scuole della regione per l'anno scolastico 2011-2012, il Panda Club e il Panda Explorer. Il primo è dedicato alla sostenibilità a tavola. Le classi che si iscriveranno seguiranno il percorso didattico con giochi, con corsi di ricette sostenibili e piccoli esperimenti per scoprire l'impronta ecologica di diversi cibi. Il secondo percorso didattico è quello sulle foreste. Nell'anno mondiale della biodiversità i ragazzi potranno avventurarsi in un lungo e appassionante percorso su uno dei sistemi naturali più importanti per il nostro pianeta. Impareranno a conoscere i delicati equilibri che regolano i cosiddetti polmoni della terra e il loro ruolo nel proteggere la biodiversità e nell'attenuare gli effetti del cambiamento climatico. Augusto De Sanctis. Questi due percorsi didattici sono rivolti appunto agli insegnanti e alle classi che possono iscriversi al WWF e appunto ricevere il materiale didattico necessario per seguire questi programmi educativi. Inoltre abbiamo organizzato per gli insegnanti 14 incontri nei principali centri della regione e presso le nostre OSI. Questi incontri si svolgeranno a ottobre proprio per la formazione degli insegnanti che vogliono partecipare a questi percorsi didattici. Genitori che sono interessati a far partecipare le classi a questi percorsi e soprattutto gli insegnanti possono scriverci ad abruzzo-vvf.it per ricevere informazioni su queste attività didattiche. Grazie a tutti.